Intanto parto da un punto molto importante, ringrazio itinerari previdenziali perché il lavoro è molto prezioso, è l'antico nucleo di valutazione della spesa pensionistica che è sempre stato un valido supporto per l'attività di governo, poi smantellato. Il lavoro continua e credo che si tratti di un lavoro prezioso. Intanto sui conti, perché è giusto che si parta dai conti. Io in molte occasioni sento un'affermazione che tutti danno per scontata, che la spesa pensionistica, l'incidenza percentuale della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo in Italia è fuori controllo, è alta, è superiore a quella degli altri paesi. Parlo mediamente. Mi pare che i conti smentiscano questa affermazione che è scontata. Tant'è che il tema che ricorre è sempre quello di nuovi interventi per rimettere in ordine i conti, per garantire una sostenibilità. Però mi pare che sia i calcoli dell'Inps sia questa elaborazione dicono che le cose non stanno esattamente così. Intanto è evidente, io su questo insisto molto, che culturalmente, politicamente, sia necessario di nuovo riprendere un vecchio tema, un tema caro a molti di noi, quello della separazione dell'assistenza dalla Previdenza. Non è soltanto un fatto contabile, è anche un fatto di contabilità sociale. Ricorre in questi giorni, avete visto la polemica sulla questione della reversibilità, io ho preso atto delle dichiarazioni del Ministro del Lavoro, quale ovviamente crediamo, e quindi per essere conseguenti noi proporremo in Commissione Lavoro lo stralcio dalla delega della parte che allude ad un intervento di razionalizzazione per quanto riguarda gli aspetti previdenziali. Quindi come si dice, carta canta, villandorme, in modo tale che non abbiamo preoccupazioni, anche perché tutti sanno che cos'è una delega. Io direi che, lo dico fuori tema, dovremmo superare l'esercizio delle deleghe. Le deleghe, come ci spiega Cacciari, sono quegli strumenti che depotenziano il Parlamento. E la possibilità per un governo di legiferare, non confrontandosi col Parlamento in modo cogente, perché a quel punto diamo dei pareri, come si dice, svuota anche il senso dell'attività politica e parlamentare. Quindi per non sbagliarsi io credo che la delega debba uscire pulita, non mescolando gli aspetti previdenziali dagli aspetti assistenziali. Ma credo che su questo dovremmo trovare una larga convergenza. Quando dico separare, vuol dire, come è stato fatto da Brambilla, evidenziare quello che può essere riferibile ad una spesa assistenziale da quello che si riferisce a una spesa previdenziale. I contributi versati, se non ho capito male, in questo calcolo, dicono che pareggiano le uscite. Ci sono 500 milioni di diversità. Ma la questione che mi sta a cuore è il fatto che, se poi noi depuriamo i conti del peso della spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo, della tassazione che grava sulle pensioni, si tratta di circa 43 miliardi di euro all'anno, noi possiamo affermare senza ombra dismentita che quel 15-16% diventa 13-14, probabilmente 12, adesso non ricordo esattamente. 13? Tre punti in meno, quindi sono 12 e mezzo, 13. Quindi c'è un perfetto allineamento e c'è un equilibrio tendenziale. Poi i demografi ci hanno spiegato quelle che sono le incognite del futuro, delle quali tenere presente. Ma intanto partiamo da questi dati che in qualche modo ci fanno dire che noi siamo di fronte, anche per quanto riguarda la contabilità, a delle anomalie. Noi siamo schiavi dei conti, fatti da altri, non dalla politica. E la politica, quando è schiava dei conti fatti da altri, non può legiferare. Perché quando ti viene detto pesi per il 16 e non per il 12-13, è evidente che devi tagliare, non devi mantenere, non devi allargare la spesa. Quindi io credo che questo sia un punto di partenza estremamente importante. Naturalmente io non sto assolutamente sostenendo che dobbiamo tornare alle spese pazze, agli incrementi di spesa, per carità. Dico solo che è meglio sapere che siamo allineati, che siamo in un punto di equilibrio e che dobbiamo anche politicamente e culturalmente combattere alcune anomalie. Per quello che ne so, se noi guardiamo ad altri paesi, penso, non so, alla Germania. Mi correggerete se sbaglio. Non c'è la tassazione sulle pensioni. Se noi... Oh, è una tassazione molto più bassa della nostra. Tra l'altro, il fenomeno dei migranti, pensionati italiani che vanno, parlo da piemontese, oltre confine, un mio amico l'altro giorno mi ha detto vado a vivere a Mentone. La mia pensione viene rivalutata, dimostra, fan bene e fan male, a me fan bene, ma non importa, dimostra che c'è una diversa tassazione. Quindi è evidente che se io carico nei conti relativi alla spesa pensionistica anche la parte lorda, vale a dire, la parte della tassazione, quando faccio la percentuale, la percentuale è giocoforza più alta. Ma con una mano prendo, ma con l'altra mano restituisco quei 43 miliardi. Quindi sarebbe giusto depurare i conti di quei 43 miliardi per avere perlomeno una trasparenza contabile dell'effettiva spesa netta del sistema pensionistico. Detto questo, io faccio sempre questo esempio. Se c'è fra di noi una persona che oggi ha compiuto 36 anni e 7 mesi, quella persona nel 2046 fra 30 anni avrà 66 anni e 7 mesi. Stante le attuali regole previdenziali, lui dovrebbe andare in pensione. Ma non è così. Ma non è così. Perché nel 2046 per andare in pensione sarà necessario avere 69 anni e 5 mesi. Allora quella persona dirà ma io ho la via di fuga della pensione anticipata. Noi, vecchia generazione, cominciavamo a lavorare a 15 anni, 20 anni, 25. Avviamento, ragioneria, laurea. Famiglia povera, media, ricca. Più o meno era questo lo schema. Adesso comincia a lavorare ad una certa età con i contributi. Quanti anni di contributi saranno necessari nel 2046? Per un uomo 46 anni e 8 mesi, grosso modo. Per una donna 45 anni e 8 mesi. Quella via di fuga non c'è. 45 anni e 8 mesi. Allora, se questo è lo schema sul quale noi lavoriamo, che poi il risultato della manovra che è stata fatta al tempo, lo sappiamo, del governo Monti, necessitata, non dico di no, ma fatta male perché non ha previsto nessuna gradualità, se questo è lo schema, lo schema del futuro sarà avere aziende popolate da settantenni che mantengono disoccupati a casa i propri figli e nipoti. Non mi pare che sia uno schema che può reggere. Quindi noi dobbiamo in qualche modo non cancellare riforme che sono dati in equilibrio. Io non dico che noi dobbiamo cancellare, noi dobbiamo correggere. Il nostro compito è di fare delle correzioni che siano compatibili. Quali correzioni? Ma per me è evidente che noi dobbiamo soddisfare non solo i conti, ma anche soddisfare, come si dice, il profilo sociale del nostro intervento. Quindi l'idea che bisogna lavorare sempre più a lungo è un'idea secondo me culturalmente e politicamente sbagliata. Anche perché intanto non considero il fatto che qui veniva ricordato che ci sono lavori diversi. Un lavoratore, il mio solito metallo meccanico della Fiat Mirafiori, dopo 41 anni ha il tunnel carpale, ha mal di schiena, le discopatie, ha una serie di problemi. Probabilmente dopo 41 anni di azienda ha anche voglia di andare in pensione se ci sono le condizioni. Chi fa il professor universitario, chi fa il primario d'ospedale, chi fa il parlamentare, noi pensiamo di essere immortali, ci piace il lavoro, è ben retribuito, è una carriera come si dice piacevole. Non si vorrebbe mai andare in pensione. Bene, la risposta è dare flessibilità al sistema. chi vuole andare a certe condizioni lo possa fare, chi vuole continuare prosegua. Anche perché io credo che oltre a questo problema della diversità dei lavori c'è un problema, io ho letto l'intervista del Presidente Boeri che condivido oggi su Repubblica del cosiddetto tu l'hai chiamata tappo occupazionale per i giovani. Evidente che la mancanza di turnover nel pubblico impiego ridotto al 25% e la mancanza di turnover anche perché non siamo in un periodo di particolare espensione nelle aziende private e il blocco dovuto all'innalzamento continuo dell'età pensionabile provoca anche l'impossibilità di un ricambio generazionale. Il Job Act non avrà fortuna se accanto a questo non ci sarà una flessibilità del sistema pensionistico. non sono ingenuo io vado e entra un altro giovane non è così lo so che non funziona le aziende si riorganizzano escono in dieci e entra uno ma entra uno adesso non entra neanche uno e ripeto 70 anni per lavorare sono troppi se si intende qualsiasi lavoro e rimanere a casa perché si è figlio e quel 70enne perché non c'è posto credo che non sia una bella prospettiva. c'è anche il rischio povertà chi perde il lavoro dopo i 60 anni 61-62 voi lo sapete non è una persona facilmente ricollocabile dipende anche dal background è ovvio che se è una persona come si è ricercata dei mercati lo collocheremo ma se è una persona normale non troverà lavoro quindi noi dobbiamo fare questo ragionamento detto questo quando parliamo di flessibilità se i conti sono come quelli e sono così perché lo studio è approfondito che ci ha fornito itinerari previdenziali il dottor Brambilla nella sua illustrazione è compatibile un'idea di flessibilità io dico di sì è compatibile bisogna ovviamente che il governo come si dice affronti la questione noi abbiamo una proposta con l'onorevole Gnecchi a partire dal 2010 noi abbiamo immaginato questa strada della flessibilità l'abbiamo tradotto nella 857 nel 2013 insieme all'onorevole Barretta che attualmente è sottosegretario quindi una proposta come si dice largamente condivisa che prevede un anticipo di un massimo di 4 anni rispetto agli attuali standard di pensionamento per vecchiai a condizione che si abbiano 35 anni di età e si paghi una penalizzazione noi abbiamo detto dell'8% naturalmente per far quadrare i conti tutti questi parametri possono subire anche dei ritocchi di aggiustamento ma è giusto dire anche qui condivido quello che ha detto il professor Boeri che bisogna fare una battaglia giusta a quella che sta facendo Renzi nei confronti dell'Europa del rigore io la condivido totalmente la flessibilità la dobbiamo richiedere dobbiamo evitare come si dice il rischio che non ci sia concessa ce la siamo guadagnata anche con le riforme va fatta la stessa battaglia per cambiare le attuali regole europee per quanto riguarda la questione previdenziale perché se guardano al debito passato non guardano alle tendenze future se agiamo sul principio della contabilità annuale noi non saremo mai in grado di fare una proposta che fa quadrare i conti evidente che se io anticipo la mia età di pensionamento dai 66 anni e 7 mesi a 62 anni e 7 mesi per 4 anni ci sarà un costo ma da quell'età 66 anni e 7 mesi fino alla media uomo-donna 85 anni rilevata dall'Istat per quanto riguarda l'aspettativa media di vita ci sono 18 anni di risparmio che se non vengono contabilizzati è evidente che noi non possiamo fare quell'operazione quindi io credo che si tratti da questo punto di vista come si dice di allungare lo sguardo di metterci tutti di buzzo buono a lavorare attorno allo schema di questa proposta delle proposte che sono in campo perché la risposta non è soltanto una risposta io vorrei che fosse chiaro la risposta della flessibilità del sistema pensionistico che il premier ha detto dobbiamo affrontare nel 2016 non l'abbiamo fatta nel 2015 nella legge di stabilità perché non volevamo fare una riforma affrettata correndo il rischio di commettere degli errori come è stato fatto nel passato benissimo meditiamo le organizzazioni sindacali hanno avanzato una proposta analogo unitariamente anche questo può essere un fattore di stimolo molto importante io dico mettiamoci all'opera attorno ad una proposta che non ha soltanto l'idea di mandare in pensione quelli della mia generazione il fulcro sostanziale di questa idea è di creare le condizioni per una nuova occupazione delle giovani generazioni oltre che come si dice mettere a riposo chi se l'è guadagnato ripeto a certe condizioni non continuiamo a ripetere si va in pensione a 50 anni non si va più in pensione a 50 anni se parliamo dei 57 anni abbiamo il caso ormai come il mammut che si estingue di quello che è andato a lavorare a 15 anni che per andare in pensione adesso ha bisogno almeno di 42 anni e qualche mese e quindi in quel caso avrà 57 58 anni ma quello lì sicuramente ha cominciato con un lavoro manuale è rimasto tutta la vita sicuramente salvorare eccezioni in un lavoro manuale e può pensare di essersi guadagnato finalmente l'uscita per poter andare in pensione se poi la pensa diversamente potrà proseguire nella sua attività quindi le nostre proposte io credo che siano proposte anche di buonsenso che vogliono cogliere il tema occupazionale dei giovani evitare di creare nuovi poveri disoccupati over 60 e quindi dare una risposta non solo al tema dei conti ai quali bisogna guardare e quello che si è stato detto con questo rapporto e che siamo in una situazione che ci può consentire di fare questa operazione ma dare anche una risposta sotto il profilo della costruzione come si dice di uno stato sociale compatibile ed equo che tenga conto della condizione di vita materiale delle persone grazie a tutti Grazie a tutti